Masti parlando di mastini gli ha detto ai Valenzano ho visto un mastino c'è uno che è un mastino enorme enorme ha parlato un po' poi lui ha pensato ah si me l'ha detto, quello del tabacchino forse ti metti in posa per me è molto bello è molto bello è molto grande ma è molto bello che bello è molto grosso però è veramente bello questo anche non è grasso non è grasso, beh non è neanche magro no ma non è grasso cioè proprio il cane magro corre, ma corre ne perde energia meglio di così bravo oh ma come sei grosso e tutte le sere la fanno passeggiata ho notato che da quando gli faccio fare tutte le sere